. Conosciuta nel reality show, ma anche dell'ex fidanzata Chiara Baschetti, attrice dell'Isola di Pietro . Proprio su quest'ultima, Elia ha speso delle parole di stima e affetto. Per quanto riguarda Gianni, ha ribadito che attenderà il suo ritorno per fare chiarezza sul loro rapporto . . Tuttavia ha precisato di non essere innamorato.Elia. Io e Chiara siamo sempre stati molto riservati . Quando Silvia Toffanina Verissimo gli ha chiesto di Chiara, lui non ne ha voluto parlare . . Si è giustificato dicendo che entrambi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata . 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